diretta benvenuti benvenuti ragazzi che sarà mai questo ricambio questo è ricambio fogliare queste sono foglie vecchie di due anni due tre anni quindi è tutto ricambio chiaro vedi vedi che non c'è problema la pianta vegeta vegeta guarda è lì che sta vegetando anche qui qui vegeta e indietro scartasca come noi cambiamo i capelli insomma normale normale amministrazione nulla di cui spaventarsi buganville allora aggiornamentino la quercia da sughero che ho impostato non c'è non c'è sfondo qua un pochino si vede che ho impostato l'altro giorno che aveva parecchi affidi praticamente ho notato che non ne ha quasi più cambiata l'esposizione cambiata l'esposizione quella quercia da sughero aveva tanti affidi perché si trovava in ombra quindi abbiamo cambiato l'esposizione e affidi non non ce n'è quasi più capisce a me cosa ho dato cosa ho spruzzato abbiamo spruzzato un po di esperienza l'esperienza ha fatto sì che io potessi ragionare su quale potesse essere il problema della presenza degli affidi su quella quercia da sughero e secondo me era una esposizione poco luminosa poco sole sono piante estremamente eliofile quindi non vivono per niente bene in ombra e quindi cosa succede succede che se lei non fa fotosintesi in quantità adeguata ad a vivere a vivere a produrre una quantità di energia tale da sostenersi da crescere e cosa succede succede che in natura esistono degli esseri atti alla degradazione di tutti gli esseri viventi e morenti che non sono in grado di affrontare la vita in modo vigoroso ecco a cosa servono cocciniglia affidi acari fitofagi scolitidi servono a questo chiaro molto semplice allora oggi oggi ho fatto un po di tolto tutta la legna qua dietro ho preparato anche cavalletto però anche cavallettino però mi sono reso conto che vediamo mi sono reso conto che comunque vista così la sotto c'è una pianta che io ho messo ho messo questa specie di vista così non si capirebbe nulla voglio presentarvela questa pianta qua è una pianta che ho lavorato che ho cavato a marzo 2020 quindi poco più di due anni fa ed è stata trovata la ho trovata e in questa posizione cioè questa parte qui era tutta terra questa parte era terra infatti lo vediamo da questa l'unica radice che l'alimentava che è stata tagliata questa è la parte di sotto diciamo così è per poterla apprezzare io la ho ribaltata quindi da questa posizione a quest'altra vedi da questa posizione così a questa qua per poter ottenere radicazione su questo punto questa praticamente una radice aerea avevo posizionato un paccone grandissimo di sfagno in questo punto qui tantissimo sfagno diversi strati e lei ha ripagato generando una radicchetta che poi è diventata già molto grossa ho visto che ne ha prodotto anche un'altra qui poi sotto non lo so se ce ne siano delle altre sai non non ho mai frugato non ho mai non sono mai stato curioso di questo però se volessi che prendesse vigore far prendere vigore a questa radice perché in una futura posa in vaso lei è più diciamo più interna più semplice da gestire dovrei mettere qua un pezzo di filo non troppo stretto in modo tale che perda vigore questa questa radice e questa inizia a crescere un po di più ok allora su questa pianta è stata fatta una impostazione molto drastica molto pesante praticamente due anni dopo la raccolta lei aveva una chioma si vede al vigore come ha risposto questo germoglio che si è sviluppato mica qua sta stringendo anche la raffia guarda chi sta gonfiando dove c'è la raffia e quindi dovrò già in alcuni punti liberare liberare il ramo dalla raffia sicuramente perché inizia a stringere in modo anche eccessivo guarda vedi il filo qui praticamente il filo da rimuovere però la rimozione del filo è una cosa piuttosto noiosa quello che faremo oggi quello che vi faccio vedere oggi facciamo insieme la scelta e la potatura di tutti quei rami che sono indesiderabili quelli che non ci serviranno per il disegno futuro qui vado addirittura a tatto ed elimino le foglie a tatto qui abbiamo due germogli molto vicini semplicemente elimino quello meno vigoroso chiaro sono molto vicini perché devo tenere quello più quello meno vigoroso quello lì lo elimino elimino le foglie basali e adesso questa qui che va sotto più avanti sarà messo applicato il filo su questi rami qua poi qui c'è un ramo che si sviluppa vedi qua vedi qui questo ramo verso l'interno questo lo potiamo sta all'interno della curva e lo togliamo anche questo sta all'interno della pianta esattamente qui si vede si sta qui dentro si potrebbe lasciare ma lo tolgo perché tanto il futuro crescerebbe in ombra anche questo qui abbiamo due germogli contrapposti uno cresce verso l'interno e l'elimino lascio quello più esterno questo qua anche se il suo sviluppo è verso il basso poi dopo è in una posizione tale che io possa mettere il filo il filo sarà messo applicato lo vedremo subito dopo la rimozione di quello che è stato messo a marzo questo perché perché la pianta è in forte spinta e quindi io approfitto di questo suo vigore sinché è vigorosa metto il filo nel momento in cui vedo che la pianta stenta a riprendersi dalla posa di un filo addirittura posso anche decidere di toglierlo anche se non ha segnato questo per dare respiro e libertà di crescita alla pianta ora guardiamo qui ho due germogli anche se sono su rami diversi sono molto vicini questo è quello più vicino alla biforcazione vedi anche di poco però che siano così due così vicini non va bene elimino quello più vicino alla biforcazione ok e procedo con questa diciamo con questo modo di ragionare su tutta la pianta qui ho un germoglio che va verso il basso foglie che si sviluppano verso il basso germogli come questo che si sviluppano verso l'interno della curva foglia foglia verso il basso foglia troppo vicina anche questo non mi piace dove sistemato così foglia che ormai è troppo basale qui abbiamo due germogli sullo stesso punto taglio questo che va verso l'alto qui due germogli che nascono dallo stesso punto taglio questo che va verso il basso qui ho un germoglio in una curva interna rametto via anche lui di qua di qua anche se questo è verso il basso posso lavorare curvandolo in questa maniera in questo caso elimino quello che sta contrapposto poi questo sta all'interno e lo togliamo quindi abbiamo uno che va verso il basso idem tutta questa potatura servirà questo si sviluppa questo qui si sviluppa all'interno di questa curva quindi tutto quello stavo dicendo che noi togliamo tenderà la pianta tenderà ripristinarlo non si vede dove sto agendo ecco qui ce n'è un altro che va verso il basso quindi questa potatura a questa potatura seguirà la rimozione del filo che non vediamo in diretta perché non ha senso vedi che qui sta incidendo tutto questo ramo qui deve essere liberato qui abbiamo un germoglio forte che va verso il basso contrapposto a uno in una posizione ideale idonea a formare una buona chioma quindi eliminiamo che lui quindi abbiamo sempre due contrapposti eliminiamo quello che va verso l'interno qui questo non è stato filato però togliamo questo che va verso il basso qui decidiamo cosa fare di questi due di questi due io lascerei questo che ha un angolo ideale vedi questo è un angolo più aperto questo è un angolino un po più chiuso lascio quell'altro anche perché subito dopo un germoglio assurterò questo germoglio ditemi se tutto chiaro o scrivete se tutto chiaro quindi vediamo anche qua adesso vediamo sta potatura domani vedremo la tecnica per poter far radicale ecco un altro per poter far radicale con praticamente 100 per cento di successo questo tipo di esemplari cavati anche in questo periodo senza radici senza alcuna radice ma recuperando una parte della radica qui c'è un grande un gran groviglio di cose questo ramo non doveva essere qui ecco perché ok ok oh bene quel ramo lì questo ramo non doveva essere dove si trovava ma così quindi questo che è tanto vicino e tanto vicino a biforcazione si elimina e anche questo qua vedi ok molto bene filo da rimuovere perché incide germogli da eliminare perché nascono in posizioni sbagliate in posizioni che non consentono la formazione di una chioma bonsai ma anche di una chioma che non usufruisca poi in modo efficiente della irradiazione solare quindi non ha senso tenerli in natura e dice ma se nascono in natura come funziona in natura funziona che quei rami lì è vero che crescono ma poi soccombono un po di foglie io sono curioso di togliere proprio di togliere il filo questo rametto cresce sacrificato contro la legna secca ma anche questo qui quello successivo non vedo ecco ok ce n'è un altro quindi noi togliamo tutti tutta questa vegetazione la pianta addirittura togliamo la vegetazione in più ah ecco cos'era in più liberiamo i rami dal filo questa pratica porterà a una nuova risposta vegetativa da parte della pianta e continueremo ad ottenere crescita crescita estiva crescita estiva chiaro quindi questa cosa che durante l'estate le piante non si concima allora come mai questa pianta è esposta al sole esposta ad altissime temperature qui c'è un altro germoglio lo togliamo è esposta ad alte temperature esposta praticamente ad una stagione in cui si diceva che le piante non che le piante vanno in stasi ma qui non sta succedendo come mai la risposta la risposta è nel contenitore ciò che contiene le radici è realizzato in legno ha un volume abbastanza ampio intorno ai 100 litri e i suoi e la sua composizione di terra è bardula di grosse dimensioni quindi al suo interno c'è tanta anche tanta aria guarda guarda io se tocco qui è fresco chiaro mi sono radici se tocco se guardo la temperatura all'interno del vaso è molto fresca un'altra cosa un'altra particolarità di della coltivazione ho notato nel microclima di questo posto è che la notte che c'è vediamoci un po in faccia che c'è molto divario di temperature tra la minima e la massima quindi non ho ad esempio 32 gradi di giorno e ciao davide non ho 32 gradi di giorno e poi di notte 28 di notte 15 gradi quindi c'è una forte escursione termica e queste differenze di temperature fa come un effetto un effetto pompa fa sì che la pianta si muova fa sì che la pianta vegeti cresci cresca sana faccio vedere questo ramo era grosso quanto gli altri l'ho potato l'ho lasciato lasciato un pezzetto per come si può dire come riserva non sarà utile perché ho i rami derivanti da quest'altro da quest'altro primario che ho lasciato per tirare solo l'apice quindi la pianta è composta sarà la sua vegetazione composta da due soli rami da questo che girando va verso il retro e poi verso il fronte questa ramificazione qui e poi un altro che parte da qui e mi crea l'apice questo l'ho lasciato come riserva inizio anche ogni tanto lui vegeta in modo molto forte e io pizzico i germogli con le dita per non farli prendere troppo vigore perché non è non ha senso esso taglio anche qua esso inizierò a diciamo così a togliergli un po di vigore però sono non voglio eliminarlo ancora completamente ecco questo è quello che devi imparare un neofita anche se questo ramo nella mia mente dovrà essere eliminato momentaneamente lo lascio perché perché mi potrebbe essere utile per creare un palco in questa zona comunque può essere utile quindi momentaneamente lo lasciamo momentaneamente si fa sempre a tempo a tagliare anche qui ci sono li vedo ci sono dei germogli all'interno di questa parte che non servono per la formazione della chioma così se avete fatto domande non le ho viste perché sono particolarmente attento a ciò che sto facendo infatti non riesco neanche ad inquadrare però ci riusciamo anche questi germoglietti sono molto vicini e non ci stanno a fare nulla questo va verso sotto abbiamo già tolto parecchio tolto parecchio anche questi devono essere eliminati questo eliminiamo c'è uno successivo piuttosto forte poi vediamo se trovo altro qui abbiamo un germoglio verso l'alto uno verso il basso questo verso il basso lo potiamo guarda vedi vedi questa segatura che c'è qui c'è una foglietta morta subito sotto adesso vi faccio vedere vedi che c'è un po di segatura dentro c'è uno scolittide femmina che utilizzerà adesso questo vi faccio vedere cosa c'è qua dentro qui dentro c'è uno scolittide vedi che è nero che vorrebbe che si facesse non scappa dove quadra eccolo qui che vorrebbe utilizzare scappato eccolo ecco sulle forbici è un piccolo scarabbeo e la femmina cosa fa depone è anche qui guarda anche qua anche qui ce n'è uno vediamo è no è già volato ok allora tanto questo germoglio quindi ho questi segnali presenza disco litidi primo è la stagione secondo non penso che sia poco vigore è proprio dovuto alla stagione e in questo momento sono presenti in modo massiccio non non penso che attaccheranno particolarmente la pianto significativo la pianta perché è in piena spinta e quindi non ci saranno problemi se avessi fatto una filatura un'impostazione in questo momento che avesse fermato rallentato lo sviluppo della pianta questa qui sarebbe stata invasa dagli scolittidi è probabilmente a rischio addirittura di morte ok abbiamo visto in diretta come faccio individuarli c'è sempre una un mucchiettino di segatura alla base di una foglia l'osservazione quando facevo quando ero diciamo piuttosto principiante e leggevo dei testi tradotti dal giapponese leggevo spesso questa cosa e la cosa più importante in arte bonsai è l'osservazione imparare ad osservare ecco che cosa intendeva captare immediatamente segnali che la pianta ci dà in modi di comunicare delle piante e degli animali questo è molto importante però più per far sì che noi possiamo coltivare la nostra passione in modo sereno come ho fatto io adesso non è che corro a prendere qualche prodotto e spruzzarlo su anche perché non servirebbe a nulla con questo tipo di di con gli scolitti di non servirebbe a nulla è chiaro allora dopo io tolgo il filo ne vediamo poi un'altra facciamo una visitina questa sempre sta germogliando devo costruire le paretine del vaso e risistemare la terra lo facciamo in diretta comunque parecchia vegetazione nuova pianta va alla grande pianta piante stanno molto bene potrebbe essere l'escursione la grande escursione termica che è presente in questa zona sicuramente anche questo motivo niente voglio poi farvi vedere questa qua la vedremo sul tavolo col questo olivastro vediamo uno stadio un po' successivo c'è un po di cuciniglia e di uova di cuciniglia alla fine delle nella parte terminale dei rami mentre all'interno non è presente chiaro questo è un chiaro motivo di comprensione come mai abbiamo la cuciniglia sopra questo è frutto di uno step fatto sempre da gianni sotto la mia supervisione direi che siamo praticamente pronti a togliere il filo l'ilo santoro sei sempre ritardo l'ilo santoro sei sempre ritardo sto scherzando quindi olivastro poi ci sono degli altri olivastri sempre da impostare quell'impostazione la facciamo insieme così vediamo tutti gli stadi dobbiamo vedere anche la posa in vaso di materiali raccolti questi giorni questo periodo assolutamente va fatto altrimenti va tutto in marcescenza perché stanno dentro l'acqua da tre giorni bisogna farlo subito lo faremo giorni prossimi giorni prossimi farò diverse dirette che però poi saranno mandate cioè la diretta la potrete vedere però poi non sarà pubblicata immediatamente ma dei giorni prestabiliti perché non sarò presente la settimana prossima qualche giorno quindi ne faccio due tre al giorno in modo tale che poi lunedì martedì e mercoledì ci siano comunque delle dirette alle 18 e 30 chiaro vogliamo un po questo sfondo si vede no così si vede secondo me così si vede guarda gli olivastri certo che scartano le foglie tutte le piante hanno un ricambio fogliare tutte le sempreverdi oliena bello è sì allora Gianluca Sorrentino tutte le sempreverdi hanno ricambio fogliare questo tipo di utilizzo delle forbici e delle che avete visto oggi serve ad anticipare questo ricambio fogliare in modo tale noi teniamo le piante sempre a regime sempre in vigore togliendo foglie che già per esperienza prevedo che stanno terminando la loro spettacolo la loro vitalità e quindi bisogna agire in quella maniera se mi metto così fa effetto silhouette e non si vede sparisce lo spettacolo però c'è fa bene ragazzi ci vediamo domani alle 18 e 30 da l'ulivo millenario è tutto domani vediamo posa in vaso di materiali appena cavati e tecniche di propagazione ciao